Non ci pesse sirene, Gaito intende usare la forza della sua rabbia per distruggere il mondo e con lui anche se stesso. Quindi vi servirà una forza maggiore e per questo vi darò un nuovo dono. Vi prego, perdonatemi vostra altezza. Sono stata io ad alimentare la rabbia di Gaito. Non merito di cantare con le mie sorelle principesse sirene. No, mia cara principessa sirena dalla Perla Arancione. Ascolta, ora tu hai un compito molto importante da assolvere, cioè salvare l'anima di Gaito. Devo essere io a salvare l'anima di Gaito. Voce di Perla Arancione! Anche se il mare è in tempesta e mi spinge violento verso la sconfitta, guardo negli occhi l'amore che mi fa lottare con la forza che dà. Per ogni volta che cadro io posso rialzarmi e così mantenere quella promessa che ho fatto con voce sincera che rendo all'amore. È una luce incandescente che riscalda più del sole così chiara che rivela la realtà. Voce unite per cantare, per sconfiggere il silenzio, sarà forte e sarà chiara la verità. Guarda in uno specchio il tuo riflesso e l'invito. Tutto questo ci sarà, sarà quel battito forte e l'amore che ci darà forza e speranza per affrontare questa tempesta che porta con sé il vento forte che ci sorprende dal mare. Avendo le nostre voci in un canto che si sentirà nel profondo più vero del cuore. Che voglio lottare soltanto per te, che voglio essere il battito forte d'amore con te. Puoi sentirlo, puoi sentirlo se lo vuoi. Senti, Gaito.